Allora, bene, siamo qua, mi sono scordata di dirvi, ve la dico io, lei lo sa dire male, ma non è vero, no 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 no, che vi volevamo fare mostrare qualche episodio che è successo mentre vede il video che abbiamo fatto. Ma che dici? Erano belli? Ah, ci pensi alle cose belle? Ok, ora ve lo facciamo vedere. Era una parte, non so se l'avete visto, era un po' basso, ma insomma lo vorremmo rivedere un'altra volta più a voce, ok? Va bene. Ok, perfetto. Ne facciamo vedere un altro, eh? Certo che sì! Ok, perfetto. Ora faremo vedere qualche altro episodio, sarà buffo, ma non tanto per voi. Oh, bene la buffa, non avete notato? Ha detto ciao a tutti! Ok, finito i nostri video. Alla prossima! Ciao!